A spazio Lecchi Vediamo se tenta la conclusione No, apertura sulla faccia sinistra Cross in mezzo ancora per Tinkail No, questa volta ci arriva Bresciano Due volte Claudio Bravo Salva la porta del Cile Il Cile Quando abbiamo superato da qualche minuto I primi 5 minuti della ripresa 4 già in rete nel primo tempo Qua rivediamo Palla che passa, arriva Bresciano Non ci pensa due volte, calcia di sinistro